Anche quest'anno si è rinnovato presso l'Istituto Mattei di Vasto il premio Molino dedicato all'ingegnere e professore Mario Molino. Promosso dalla famiglia Molino e dai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vastost, il premio è un riconoscimento istituito dalla famiglia alla memoria del professore ingegnere Vastese scomparso nel 1984. L'evento si è svolto alla presenza del governatore del distretto Lions 108A Italy, Francesca Ramicone, e di molte personalità lionistiche, politiche e imprenditoriali del territorio. Massimo Molino, oggi un premio alla memoria di papà Mario Molino. È un premio molto sentito ogni anno, c'è grande partecipazione per una grande persona che ha fatto tanto anche per questa scuola. Non l'ha fatto soltanto per la scuola, lui era professore dentro questa scuola, ingegnere anche libro professionista, però gli è riconosciuto dalla cittadinanza e insomma anche dalla scuola di aver collegato in tempi che non sospetti, perché nel passato, il mondo della scuola al mondo dell'industria, al mondo della produzione. Quindi quella che oggi viene chiamata alternanza a scuola lavoro, lui l'aveva già pensata tanto tempo fa, ma soprattutto è stato un precursore di quello che è stato lo sviluppo industriale del Bastese, perché sempre in quello che è un passato, che per fortuna è abbastanza remoto, Basto non godeva di una possibilità di industrializzazione, molta gente era costretta anche ad andare via e migrare. Mio padre, che comunque aveva acquisito una professionalità, voleva riconoscere questo al suo territorio, quindi quando ha avuto la possibilità e ha conosciuto tanti industriali del nord, la prima cosa che ha fatto è voluto tornare con questi industriali a investire nel Bastese, a dare una possibilità di occupazione alle persone che ahimè erano costrette ad andare altrove. Non solo, ma le formava molto spesso da giovani all'interno della scuola, ma soprattutto ci accorgiamo oggi come oggi dell'importanza di quello che ha fatto lui per lo sviluppo del Bastese. Oggi con il Covid abbiamo dovuto anche trasformare il premio che si è evoluto, da delle borse di studio, adesso stiamo dando una mano allestire nella maniera più moderna possibile, il laboratorio di elettrotecnica, dove tra l'altro ci troviamo in questo momento. Potrà sì che evolva ancora in un'altra maniera, però queste due variabili, mondo dell'industria, che oggi è molto presente anche nella consegna del premio e anche in questo mini convegno che facciamo, e il mondo della scuola, fanno sì che questo tutt'uno, insieme alla famiglia Molino, porti a uno sviluppo della città e questo mi fa molto piacere. Questo evento si inserisce nel sorco di una tradizione che a livello locale ha avuto la sua rilevanza, proprio per la figura di Mario Molino, che è stato il primo, forse, come ideatore di un rapporto di scuola-lavoro attiva e continuiamo a mantenere viva la sua memoria, sostenendo le attività di questo istituto. Miriam Giorgiacomo, Vasso Web.